Salve da Accademia dei Pugni, abbiamo appena fatto una di quelle robe da malati che non si dovrebbe fare mai, abbiamo preso il trailer di Napoleone di Ridley Scott, lo abbiamo smontato fotogramma per fotogramma tentando di capire tutti i riferimenti a quadri, stampe o rappresentazioni a cui Scott si è ispirato. Ve le abbiamo montate, godetevi il video da veri malati, se avete altri spunti, altri consigli fatecelo sapere sui commenti, non dimenticare di lasciare un like, un'iscrizione al canale, non dimenticare, viva l'imperatore! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!